Si dice che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito ma neanche la suocera o il suocero. La Cassazione ha sancito un principio secondo cui il college che accetta che il proprio genitore entri nel menaccio familiare a gamba tesa e interferisca nella vita coniugale, quindi anche sugli indirizzi educativi da impartire ai figli, subisce la debito della separazione, peggio che è un'inferietà coniugale. Capite benissimo quindi che quando ci si sposa esiste un nuovo nucleo familiare del tutto autonomo. Non è concepibile quindi che i genitori di lui o di lei possano in qualche modo interferire nella vita coniugale, mettere il becco sulle loro decisioni, prendere posizioni in caso di attrito. Vedete un conto è il suocero che dà una mano alla coppia e ce ne sono tanti, anzi ci sono tantissime coppie di suoceri che aiutano economicamente i figli ma ci sono anche altre coppie o suoceri soprattutto madri di lui ma anche a volte madri di lei che creano dei disagi enormi e che addirittura diventano l'elemento perturbatore della vita coniugale. Allora bisogna fare delle distinzioni, un conto è mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, un conto è essere mammoni. La legge quindi è già intervenuta, voi non avete idea quante volte nel mio studio legale vengono persone disperate perché la mamma di lui o di lei decide anche il colore dei parati o che cosa devono studiare i figli o dove ne devono andare in vacanza. Allora ve lo dico da avvocato matrimonialista, ve lo dico da uno che mai da 30 anni fa questo lavoro, questa professione nobile, tenete lontani i genitori dalla vita coniugale o meglio i genitori sono importanti, sono fondamentali ma la famiglia, la nuova famiglia che discende dal matrimonio, ma anche una coppia di fatto, ma anche un'unione civile deve essere assolutamente autonoma e indipendente e nessun genitore di lui o di lei deve interferire e deve creare momenti di attrito perché poi attenzione sono proprio queste persone anziane che dovrebbero avere in qualche modo la saggezza e anche una lungimiranza che sono gli elementi scatenanti per cause di separazione giudiziale o comunque per fratture familiari gravissime. Quindi riflettete. Per tutte le altre notizie iscrivetevi sul canale di YouTube Studio Legale Cassani. Alla prossima.